Benvenuti nel canale delle notizie napoletane. Qui troverai gli ultimi aggiornamenti su squadra, giocatori e trasferimenti. Non perdere nessuna notizia e iscriviti ora per ricevere le notifiche dei nuovi video. E non dimenticare di mettere mi piace ai nostri video per sostenerci e aiutarci a crescere. E ora veniamo alle notizie. Il Napoli come Benjamin Dominguez, potrebbe diventare il nuovo Mertans. Tra i tanti talenti monitorati dal Napoli potrebbe esserci anche un argentino che per il Pampa Sosa ricorda molto il primo Driss. Il Napoli è già alla ricerca di nuove chicche da far esplodere e sfoggiare. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sa già cosa serve per dare più slancio al progetto tecnico-tattico di Luciano Spalletti, che si è rivelato uno dei migliori allenatori dei nostri tempi. Aurelio De Laurentiis è pronto a rinnovare il suo contratto, a prescindere dall'opzione unilaterale contenuta nell'accordo in scadenza il 30 giugno. Uno dei possibili obiettivi di mercato potrebbe essere Benjamin Dominguez, classe 2003 al Gimnasia La Plata. L'ex Napoli Roberto Sosa lo ha definito una star ai microfoni di Viconos Web Radio TV. Lo stesso Pampa lo paragona al primo Driss Mertens, calciatore capace di infiammare il pubblico napoletano. Secondo il portale Transfermarkt il suo valore si aggira intorno ai 2 milioni di euro e quindi chi lo prendesse oggi farebbe un vero affare. Giuntoli sta pensando a questo? Vanno compresi anche i posti disponibili per i cittadini extracomunitari.